Rinviata a riposto a data da destinarsi la trattazione del punto riguardante l'istituzione del baratto amministrativo. Ieri il consigliere Sarocerra, che in una precedente seduta aveva presentato sul tema un regolamento, viste le difficoltà insorte durante il dibattito, ha ritirato il regolamento e presentato un atto di indirizzo, invitando la Giunta ad attuare il baratto amministrativo entro l'approvazione del bilancio preventivo 2017, in modo che sia la stessa Giunta a indicare l'elenco delle prestazioni che i cittadini morosi potranno espletare, le modalità di stesura della graduatoria e quant'altro serva per realizzare il baratto amministrativo. L'assessore alle finanze nella Casabella ha definito l'argomento interessante, ma non semplice da realizzare. Numerose le riserve espresse durante il dibattito in aula in merito alla possibilità di realizzare questa misura senza creare buchi di bilancio. Il timore è che al 30% dei cittadini che non pagano se ne aggiungano altri ancora, ed è stato quindi chiesto dove l'amministrazione andrà a prendere queste somme. Sarocerra ha quindi ribadito che non si tratta di prevedere dei fondi di bilancio da regalare, ma di recepire una legge nazionale, visto che c'è già una parte di residenti che non riesce a pagare le tasse comunali. Il punto e la seduta sono stati rinviati a data da destinarsi. Durante l'attività ispettiva, tra i numerosi tremmi sollevati, si è parlato di interventi necessari nel cimitero e dei precari del comune. Sui precari, il sindaco Enzo Caragliano ha riferito l'intendimento di stabilizzare 5 lavoratori a 18 ore, partendo dalle fasce più basse, il tutto nella massima trasparenza. Risolta poi la vicenda della convocazione della consulta della cultura, l'assessore Gianfranco Pappalardo Fiumara, viste anche le obiezioni emerse in consiglio, ha ritirato la convocazione, una soluzione che è stata apprezzata dai consiglieri.